e fu siccome gazebo nel momento delle sue riparazioni le riparazioni del gazebo supervisione di calypso e marietto che lavora male cosa stai facendo incollando della stoffa sopra la stoffa fate vedere un po non c'ho tempo si cerca la colla mi ha riciclato un vecchio ombrello per fare la toppa ragazzi mi sta volando via mario non so il gazebo si alza guardate che si è ribaltata la grande guardate come si gonfia si è riaperto tutto mario cosa stai facendo lo fisso per il vento il piccolo aiutante di babbo natale ragazzi ha un spettacolo questo nostro gazebo si messo a posto a bene meglio abbiamo incollato anche dei sassi in mezzo al telo ma noi non ci facciamo mancare nulla sullo sfondo il nostro bellissimo arco le macchine vabbè perché si allestisce tutto per pasquetta abbiamo ospiti e allora che poi non sono ospiti che sono persone di famiglia però noi vogliamo farci trovare pronti per la grande mangiata come ha detto mario qui c'è il barbecue la padella per le castagne non c'entra la mazza ma si scaldano le griglie qui è tutto pronto a dopo